Ma dove è stato messo? E' un messo! Ma si fa un capello! L'ho preso! Ma non mi ricordo questo amore! E' un messo! E' un messo! Ciao! Oh no! Oh! Guarda che c'ho in mano! Sono una friscia di un'ampage! Allora... Eh, che stai a sapere! Nooo! 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 Io sono pronto! Non voglio stare sulla foglia della nostra vita! Io so che non sono solo! Anche quando sono solo! Perché so che non sono solo! Anche con il dito! Farlo! Oh nooo! Oh nooo! Allora! All'attacco! Allora! All'astacco! Non lo farei quella opzione! Non un problema fa nel cuore! Non lo farei quella opzione! Allora! Non lo farei! Non le polvere le dalle paro! Non lo farei quella opzione! Che ho e la tua propria! aspetta credi qui alla fine io sono la fine io mi sono la fine, sono pronta vai uccidi uccidi ora non l'appoggio ha una magia ma che hai detto? aspetta uaaaa uaaaa fate capire questo ma lo dobbiamo pagare se si scatta non ci ridano dei 20 euro della no, non c'è e lo faccio così e lo faccio così questo avevo usato come strumento erotico non ce l'ho usato fare i tipi va bene rasconde non è non è come fai i tipi è un catetere no, ma come fai i tipi fatti assumere com'è